Questo enorme squalo femmina è stato ripreso da alcuni sub a largo dell'isola di Guadalupe in Messico ed è probabilmente l'esemplare più grande mai filmato così da vicino. È stato ribattezzato Deep Blue, ha circa 50 anni ed è lungo 6 metri. Questo video, realizzato da uno dei sub, Mauricio Hoyos Padiglia, mostra l'animale avvicinarsi alla gabbia nella quale gli appassionati si chiudono prima di immergersi in acque infestate da questi predatori. Lo squalo si avvicina talmente tanto che uno dei sub riesce addirittura a sfiorarlo.